buongiorno a tutti allora magliettina come sempre della settimana questa è quella che è la maglietta della settimana con la frasettina simpatica la buttiamo lì dai comunque detto questo andiamo a fare devo chiedere venia perché non sono riuscito a fare le schedine e bollettine del gigione di ieri martedì perché ahimè ci sono stati i sorteggi del campionato di serie a quindi hanno fatto le 38 giornate sappiamo come vanno eccetera come andranno e quindi ora che si è caricato uno l'altro mi si è caricato stamattina stamattina mercoledì mattina alle 6 più o meno e quindi non ho fatto in tempo non è che non ho fatto in tempo si stanno caricando gli altri e quindi li ho saltati però adesso andiamo a fare quelle per mercoledì che dovrebbe dovrei farcela per mezzogiorno dovrebbero essere online quindi sono cinque partite ne ho scelte quattro come sempre naturalmente cinque partite faccio la schedina schedina alternativa e poi dopo le 6 bollette separate allora partiamo subito bando alle ciance che già parlato troppo con la schedina schienina alternativa la proviamo così perché ho guardato anche un po le quote fare l'1-5 non mi sembrava il caso quindi mi arrischio il 2-6 il multigol 2-6 quindi ai k stella rossa 2-6 rosamo batte boricocco 2-6 corabac dun dal 2-6 ai k maribor 2-6 e copenhagen the new saints 2-6 l'altro giorno ieri mi è andata bene perché l'ho giocata il 2-6 le ho prese tutte purtroppo ho sbagliato una delle sei partite è uscito il pareggio l'ho giocato l'uno secco comunque andiamo a vedere le bollettine innanzitutto quella con le fisse ai k stella rossa 2 rosenberg batte boricocco 1 quara bag dundalk 1 e ai k maribor 1 con 5 euro se ne vincono 39 94 seconda bollettina con le doppie ne ho messe 3 su 4 perché comunque paga lo stesso decentemente ai k stella rossa is 2 rosenberg batte boricocco 1x quara bag dundalk 1 e ai k maribor 1x con 5 euro se ne vincono 18 e 70 terza bollettina doppia più over a tenete conto ho preso tutte le quote della better escluso il gol più over perché il totusi pagava di più o forse non è la stessa cosa del gol più over quindi 4 5 su 6 sono quote del better della better quindi ai k stella rossa is 2 più over rosenberg batte boricocco 1x più over quara bag dundalk 1x più over e ai k maribor 1x più over con 5 euro se ne vincono 29,57 quarta bollettina ai k stella rossa gol casa si rosenberg batte boricocco gol ospite si quara bag dundalk io metto gol ospite però vi faccio le doppie opzioni comunque gol ospite si ai k maribor gol ospite si con 5 euro se ne vincono 41,80 però siccome il dundalk vedo che non è che lo considerano più di tante danno abbastanza per scontato che non segni qualora qualcuno volesse giocare il no gol su quara bag dundalk giocando poi le altre il no gol il no gol ospite ne andrebbe a vincere 27,87 giocando poi le altre tre col gol casa ospite come l'ho fatta io vi do le due opzioni vedete un attimino voi andiamo alla quinta bollettina folle perché è veramente folle ai k stella rossa gol più over il gol più over non è favorito rosenberg batte boricocco gol più over il gol più over non è favorito quara bag dundalk proprio lo sconsigliano proprio siamo a 1,78 il no gol più under e a 2 a 3,50 più o meno il gol più over quindi vedete voi io faccio gol più over lo stesso ai k maribor gol più over giocatevi 2 euro se volete giocare perché comunque con 5 euro ne andreste a vincere 289,38 è difficilissima quindi ve lo anticipo io qua magari il no gol più under è più probabile però le vie del signore sono infinite il calcio è una scienza inesatta infine l'ultima stra folle il tricombo anche qui da better ai k stella rossa 2 più gol più over rosenberg batte boricocco 1 più gol più over quara bag dundalk 1 più gol più over ai k maribor 1 più gol più over con 2 euro giocatevi quelli perché basta ne avanzano se ne vincono 650,42 se uno vuol fare il grande giocano a 5 euro sono 1626,06 tanta roba ma lo credo improbabile detto questo vi saluto vi ringrazio chiedo venia se ahimè l'altro giorno non ho fatto in tempo ma stavo caricando i due video che riguardavano appunto il nostro campionato e le 38 giornate che hanno preparato e quindi non si sarebbe caricato comunque in tempo e allora l'ho saltato spero non me ne vogliate detto questo ciao